Oggi è Pasqua, da questa notte abbiamo cantato l'Alleluia, l'inno della vita. E quella croce che abbiamo meditato in questa settimana santa, la luce di quella croce è immersa nella luce del mattino di Pasqua. Cosa ci ha fatto Gesù, morendo e risorgendo per noi? Per dirla con Don Antonio Ruccia, che è un parroco ed è un teologo pugliese, noi siamo il popolo degli schiodati. Cristo, attraverso la sua croce, ci ha schiodato dalle nostre croci, dalle nostre sofferenze, dalle nostre tristezze, dal nostro peccato. E questo schiodarci da parte di Cristo è continuo, è costante attraverso l'azione della Chiesa. Oggi tutti dobbiamo sentirci schiodati dalle nostre croci. Certamente qualcuno mi dirà, ma io sono ammalato, sono ancora sulla croce, io sono triste, sono ancora sulla croce, io sono preoccupato per mio marito, per mia figlia, per i miei figli, sono preoccupato per il mondo, per il lavoro. Lo schiodarci di Cristo dalla croce non è toglierci dalle nostre sofferenze, ma è darci la forza per poter vivere da risorti con la certezza di non essere soli, per poter vivere da risorti con la certezza che l'ultima parola non è la morte, ma è appunto la vita e la vita di Cristo risorto. Ma il segreto per essere uomini e donne della risurrezione non sta soltanto nel lasciarci schiodare dalla croce da Cristo, ma nel diventare noi, uomini e donne che aiutano altri uomini e altre donne a schiodarsi dalle loro croci, dalle loro sofferenze. Qual è l'augurio che voglio fare a me e voglio fare a voi? Rubò le parole appunto a Don Antonio Ruccia da questo libro Scegliere di Rinnovarsi, il quale dice che la Pasqua non è una proposta, ma è l'impegno a rivivere la stessa esperienza degli schiodanti che a pieno titolo diventano testimoni della resurrezione. Il Cristo condannato e crocifisso alla discarica di Gerusalemme non è rimasto nel sepolcro del giardino, ma è risorto. Lui sì, che è uno schiodato, ha sconfitto tutti i detrattori della vita, ha cambiato direzione a una umanità interrata nelle sacche dell'anonimato e dell'indifferenza, facendo spazio a un percorso dove anche gli ostacoli più difficili possono ampiamente essere superati. Una Santa Pasqua a tutti. Domani ci rinnoveremo gli auguri, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.